Finalmente ragazzi sono tornato nella Big Vanilla, siamo nel nostro primissimo mondo, nel nostro regno, non siamo più nel mondo ghiaccio contro fuoco, nel bioma della mesa e nel bioma del ghiaccio, siamo nella vecchia e ovviamente originale Big Vanilla, wow! Sono contentissimo, è stato un mese super intenso, sembra praticamente di essere entrati in un reality show dove siamo restati per un mese all'interno di quel posto e abbiamo costruito, abbiamo combattuto e abbiamo pensato a delle strategie di guerra fenomenali e alla fine c'è stato un solo regno vincitore, potete indovinare quale regno? Ma ovviamente ragazzi il regno in cui c'era anche Kendal, ma è ovvio! No allora devo dire è stata una battaglia veramente incredibile però abbiamo rischiato, abbiamo rischiato tantissimo perché quando è iniziata la battaglia eravamo quasi pari con le morti, quindi poteva veramente succedere di tutto. Abbiamo avuto diciamo l'astuzia di prenderli in contropiede e loro si sono fatti fregare dal fatto che stavano tutti quanti tutti super uniti, appena abbiamo fatto le prime uccisioni, cioè non c'è stato più gioco ragazzi, abbiamo vinto senza alcuna ombra di dubbio. Allora io ovviamente adesso ho tutte le armature, tutte le cose che avevo nell'altro regno, nell'altro mondo, quindi tutte queste robe, tutti questi bottini in realtà, questo per esempio, questa credo sia la spada di Xiao perché questa è la mia, la spada del big guerriero che ovviamente terremo per sempre per ricordo, anzi direi proprio di incorniciarla da qualche parte. Guardate la mia armatura che quasi si stava distruggendo nonostante sia un'armatura in nederite, questa è la spada di Xiao, ho anche il piccone di Xiao, quello uso molto volentieri visto che il mio è più scarso, ho anche un asce in diamante, un arco power 5 flame unbreaking, questo corpetto in diamante non me ne faccio nulla, quindi tutte queste cose, tutti questi bottini io ovviamente li terrò anche perché adesso ho doppia armatura, c'ho sia la mia armatura normale che l'armatura nuova, infatti ora vi faccio vedere, se non sbaglio l'armatura normale l'avevo messa nell'ender chest forse, o nell'ender chest o nelle ceste normali, devo andare a controllare, allora andiamo subito in magazzino e andiamo a vedere, ma oggi ragazzi c'ho una piccola chicca per voi, sì, avete capito bene, e tra non molto ve la faccio vedere, allora, qua, no vabbè, qua ci sono le cose inutili, quindi dubito di averle messe là, semmai qui, ok, sweeping edge, protection, bla bla bla, fire aspect, ottimo, il mio tridente, vabbè che è questo in realtà, ok, quindi abbiamo il tridente con loyalty, channeling, impaling, breaking, mending, perfetto, mele d'oro non ne ho, pozzini non ne ho, totem ce l'ho, mettiamolo perché non si sa mai, meglio dello scudo sicuramente, io mi scordo sempre di usare lo scudo, e la mia armatura dov'è? Ragazzi, io avevo un'armatura finale, oh mio dio, uno stack d'oro, me l'ho dimenticato, ah ma certo, la mia armatura l'avevo messa nell'ender chest, è ovvio, è ovvio, allora l'ender chest si trova qua sotto, quindi devo semplicemente fare così, scendiamo, perfetto, l'ender chest si trova nelle mie segrete, nelle mie prigioni, che adesso non mi serviranno più, perché adesso c'è soltanto un regno, il regno vincitore di fere, quindi non esisteranno dei disertori o degli altri, il re, che cavolo, perché? Eh? Dov'è finita la mia, dove è finita la mia armatura iniziale? No, è stata cancellata? Cioè, il ladro forse pensava che avremmo potuto barare utilizzando le ender chest, e quindi ce le ha cancellate, vabbè, non è così grave, perché io comunque ho tutte queste armature, ho questa armatura qua che è potentissima, ho due spade, questa non la userò, però questa qua è la spalla del big guerriero, ci devo mettere mending in questa, devo chiedere a Marci se ha degli altri libri mending, oppure li vado a cercare io, quindi la mia armatura vecchia non esiste più praticamente, cioè dopo un mese è stata cancellata, e cioè avevo sia un'ottima armatura che un'ottima spada, me lo ricordo bene, vabbè, non importa, sai perché non importa, caro big ladro? Perché tu pensi di avermi tolto le armature, di avermi tolto tutto, ma io ti ho tolto qualcosa di ben più prezioso, infatti sono l'unico nel server a possedere la spada del big ladro, la spada della rovina, Questa è l'unica spada con 12 di attacco danno, cioè come vedete questa qua è sharpness 5, ha 11 attacco, questa ne ha 12, ed è la spada che abbiamo utilizzato nella guerra, è la spada di Buddy, guardate che figata ragazzi, le particelle che emana quando la impugni, eh? Big ladro non te l'aspettavi? E probabilmente vi starete chiedendo, ma Kendall come fai ad averla tu? Scusa, questa qua era la spada di Buddy, dovrebbe averla Buddy, giusto? Eeeh, diciamo che c'è stato un piccolo magheggio di cui nessuno si è accorto durante la live dell'altro giorno, eh, facciamo così, vi metto la clip, Steph posso provare la spada? Il primo è morto in battaglia ragazzi, è morto da combattimento Ma che cosa è sto rumore, scusate? Ma che cosa è sto rumore, scusate? Ma che cosa è sto rumore? Che bello ha fatto Ragazzi, questa è la spada del big re oscuro, del big ladro, cioè guardate quanto è bella, io me la voglio tenere per sempre Ecco, io mi sono fatto passare la spada per provarla, per vedere com'era e nessuno si è accorto che me la sono ottenuta Ah, neanche voi ve ne siete accorti, è di la verità, neanche i fan se ne sono accorti, quindi fantastico, questa spada adesso sarà mia Oh mio Dio, le mie elitra, no, ho perso l'elitra, è una mia impressione o sembra leggermente diversa la big vanilla? Cioè è sempre la big vanilla, si vede, no? Però mi sembra tipo più grande, o forse non mi ero abituato, non lo so Senti, togliamo questa TNT perché ho paura che qualcuno la faccia esplodere, ok, troppo tardi come non detto Devo anche controllare il castello, il castello di Marci, secondo me è ancora esploso, sapete? Secondo me, sì sì, non è stato riparato in qualche modo dal big vanilla, è rimasto completamente distrutto Ora andiamo a dare un'occhiata, allora, mamma che bella questa spada ragazzi, quanto è bella La vorrei provare, però credo abbia, eh infatti, c'ha soltanto 8 utilizzi La proviamo? La voglio provare ragazzi, voglio provarla su qualcosa, cioè fa tanto tanto danno Quel povero cavallo, come si... è per caso il cavallo bella faccia o è un cavallo selvaggio qualsiasi? Ehm, vediamo, vediamo, vediamo Sei bella faccia? No, è un cavallo qualsiasi, proviamolo su di lui Oh! Ma che volo gli ho fatto fare? Oh mamma mia, ok, adesso c'ha... ah, c'ha ancora 8 utilizzi perché c'ha un breaking Però ragazzi, non la voglio assolutamente sprecare Questa è la spada del male e la voglio tenere, la voglio conservare per ricordo Spero soltanto che non mi faccia diventare cattivo Ehm, c'è un bel po' da modificare adesso, bisogna fare manutenzione Per esempio, quei bei blocchi d'oro, io... quasi quasi ragazzi, che dite? Beh, ma quasi quasi? Ehm, dove sono? Mamma mia se sono in alto Allora, il cubo si trova ancora qua, ma credo che sia soltanto per qualche altro giorno Cioè, tra non molto dovrebbero toglierlo, o almeno credo, a meno che il ladro abbia in programma qualcos'altro Questo è mio, grazie, anche questo... ah! Aspetta, fermi Facciamo così Direi di mettere l'acqua quassù Ce l'ho dei blocchi? Eh, non ne ho molti Speriamo che bastino, perché voglio togliere questa lava Quindi mettiamo l'acqua Così dovrebbe togliersi, no? Perfetto Adesso togliamo l'ossidiana Dobbiamo cercare ragazzi di fare la manutenzione Perché è da un mese che non siamo più qua dentro E quindi c'è tutto quanto sporco Ci sono i moscerini, c'è la polvere Bene, ora qualcun altro si divertirà a togliere tutta questa cobblestone Di certo non lo farò io Questa lava mi finirà addosso? Ho come l'impressione di sì Andiamo a dare un'occhiata al castello Vediamo se è ancora distrutto Perché se non ha cambiato tutte queste cose al centro Vuol dire che il castello è ancora distrutto E quindi dovremo creare un nuovo castello per la big regina fere No ragazzi c'è questa spada, è stupenda Peccato per la corona Eh, la corona purtroppo Oh, ah ma mi dà anche aste? Peccato per la corona oscura Perché quella verrà forgiata, verrà fusa All'interno dell'altra corona Per creare la corona suprema, finale Poi vabbè, cioè Ovviamente io la vorrò provare Quindi spero che me la facciano provare È pazzesco comunque Il big ladro ha organizzato veramente un evento stupendo Il fatto di separarci per un mese Di farci combattere, di farci fare Oh mio Dio, no È veramente distrutto È andato totalmente distrutto durante l'evento Eh, vabbè, sarà da rifare Dov'è la mia testa? Quella faccia ha ricercato? No, 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 no Quella faccia ora ci mettiamo Ok, molto meglio Mi ero dimenticato del mio tridente Quanto è bello essere tornati ragazzi È come quando ti fai una vacanza tipo di un mese E poi... Oh, ok Pensavo che non mi ritornassi indietro Diceva, è come quando ti fai una vacanza di un mese O di due settimane Poi torni a casa ed è tutto così strano Allora ragazzi, mi raccomando Voi non dite nulla a nessuno Che io al momento ho questa spada Dovete tenerlo segreto Per favore Non lo scrivete nei commenti degli altri Perché io adesso la vado a nascondere da qualche parte Perché ho intenzione di tenermela per sempre Non si sa mai Magari per qualche evenienza potrebbe servire in futuro Quindi sapete cosa faccio io adesso? Facciamo così Scendiamo nelle nostre segrete E la mettiamo all'interno dell'ender chest Esattamente qua E facciamo così La ricopriamo No, questo non è il centro Ok, perfetto Quindi questa la teniamo qua Poi direi di tenere anche il bottino di guerra La spada di Xiao E ci mettiamo anche tutte le varie pozioni Ci mettiamo anche l'oro Questo Cioè, ragazzi, comunque Dobbiamo costruire Uh, mi è venuta un'idea Una statua che rappresenta la grande guerra Che c'è stato l'altro giorno Sì, dobbiamo farlo per forza Devo contattare immediatamente Marce E ci dobbiamo mettere al lavoro Ah, cavolo Devo contattare anche Loco Per farmi riparare qua il meccanismo No, si è rotto tutto Ah, è vero Qua c'è anche la cosa Vuoi vedere che le ho messe qua Le mie corazze Oh mio Dio, ragazzi Mi ero dimenticato Della sala del fabbro Quindi forse le mie corazze Sono queste Sono stato previdente Ragazzi Cioè Ho fregato il ladro L'ho fregato Lui pensava di cancellarci Tutte quante le armature E io invece L'ho tenuta ben nascosta Qui Nella sala Del fabbro Eh? Chi è il genio? Non solo gli ho rubato la spada Ma ho anche di nuovo La mia vecchia armatura Unbreaking Protection 4 Mending Unbreaking Protection 4 Unbreaking Protection 3 Che schifo Aspetta, forse questi pantaloni Sono migliori Fammi un attimo vedere Protection 4 Sì, sono decisamente migliori Tu prenditi questi E poi Unbreaking Depth Strider Blast Protection Feather Falling No, questi fanno schifo però Blast Protection Cosa me ne faccio I Blast Protection Questi come sono? Fammi vedere Depth Strider Protection Feather Falling Unbreaking Ok, ora ci siamo Mettiamo questi qua E questi qua Ok Quindi ragazzi Per me Tutto di guadagnato C'ho una nuova spada C'ho, anzi C'ho due, tre, quattro nuove spade Ne ho tantissime C'ho una nuova armatura Più altre due Messe là sotto Perché non si sa mai Per ogni evenienza C'ho tante mele d'oro C'ho delle carote d'oro C'ho un nuovo arco Con power 5 Flame Unbreaking Un nuovo piccone C'ho veramente di tutto Io ho stravinto Durante questa guerra E durante questo evento Penso di essere quello Che ne ha tratto più vantaggio Spero che questo video Della Big Vanilla Vi sia piaciuto ragazzi Mi raccomando Non dite a nessuno Che io ho la spada segreta Del Big Ladro Facciamo che resti un segreto Tra me e voi Dal vostro Candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Siamo finalmente tornati Ciao